Quindi creano una risposta estetica a questa bruttezza. Il cittadino sta agendo in qualità di politico. Tutti quanti noi infatti abbiamo confuso l'idea di politica perché pensavamo che l'estetica fosse al di fuori, fosse appunto la dimorazione, la bellezza appunto vista come se non avesse forza, potere alcuno. Invece quello che dico io è che ogni reazione estetica, ogni risposta estetica al mondo è a mio avviso, ripeto, un'affermazione politica, cioè una partecipazione, una risposta estetica e le risposte estetiche sono molto molto più profonde rispetto a tante delle nostre idee e risposte politiche.